DECIMA EDIZIONE DI TANNEOLI CACTEA DECIMA EDIZIONE DI TANNEOLI CACTEA Gruppo B, settima giornata, partita fra Gareventi e Universal Finita 5 a 1 per Universal, doppietta di Saro Prioli Anche oggi hai dato il tuo contributo con la doppietta La prestazione, il primo tempo è andato bene 4 a 0 è stato il parziale, poi infortuni Prima di Amattio e poi del portiere che la scipette Comunque ha fatto anche una grande parata, pure infortunato Siete riusciti a portare a base i punti Sì, abbiamo ottenuto questa grande vittoria Che ci voleva, senza dubbio Anche se sei infortunato con la scipette, ha resistito fino alla fine Abbiamo avuto il difensore, manca qualche giocatore come sempre Però il fin di conti ce la mettiamo sempre tutti per vincere Oggi abbiamo vinto, come ho detto la sua volta Bisogna vincere sempre Ecco, l'altra volta purtroppo è stato un pareggio per 1 a 1 Oggi siete tornati alla vittoria Ecco, diciamo che tu forse rendi al meglio in attacco Piuttosto che in difesa L'importante è, come dico io sempre, vincere Poi in difesa, la tappa, accendo campo L'importante è andare al 100% in ogni parte del campo Anche in porta Un'ultima notazione è la gran punizione di Capitan Bappalargo Beh, di verità mi ha stupito la punizione perché non mi aspettavo proprio Pensavo andava dietro la tribuna Però ci darò la porta per il suo fortuna In croce dei pali In croce dei pali Non so come, ma c'è entrato e quindi ha fatto il gol E' meglio così Va bene, allora invoca lui il prossimo corneo Del torneo Grazie 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 Grazie